Sono due bambini abbandonati in pochi giorni a Milano, c'è sempre bisogno di attenzione sulle fragilità di questa città? C'è bisogno sì, è evidente. Adesso volevo in questi giorni, ieri sono stato a Roma, come sapete, volevo sentire anche un po' quelli della Mangiagarli per farmi un quadro per capire se possiamo fare di più. È chiaro che, come è stato espresso da più voci, devono fare di più un po' tutti, le associazioni, i singoli, il comune, però certamente non è una cosa che ci può lasciare indifferenti.